Roberto Palladino, la 47esima edizione della Sue Giù non si è corsa, non avete animato le strade di Campobasso, ma effettivamente si è fatta con tante iniziative che avete promosso e che state promuovendo anche in questo mese, proprio di dicembre. Sì, è proprio così, con grande rammarico abbiamo dovuto rinunciare a riunire in piazza tanta gente, migliaia di persone che in effetti aspettavano con ansia. Anche noi abbiamo temporeggiato fino alla fine, nella speranza di poter realizzare questo ennesimo sogno. Non c'è stato possibile per ovvi motivi, però non abbiamo rinunciato. Abbiamo organizzato tutti gli eventi che di solito costellavano la Sue Giù. E quindi a partire dalla presentazione, che siamo stati costretti a farla all'aperto, con un numero ristretto e solamente con i nostri atleti. Poi abbiamo organizzato, i ragazzi stessi in effetti lo hanno fatto, il nostro giornale sociale, che sarà distribuito gratuitamente in occasione della proiezione dei filmati che ci sarà sabato e domenica prossimi nella piazza del comune di Campobasso. Abbiamo realizzato le prime azioni, abbiamo cercato di fare tutto ciò che normalmente facciamo. Certo, c'è mancata la ciliegina, però pazienza è andata così, almeno per quest'anno. Speriamo di poter recuperare, fare di meglio e fare ancora qualcosa di più per la prossima edizione. Infatti, tramite uno speciale andato in onda anche sulla nostra emittente, abbiamo vissuto queste premiazioni itineranti, scoprendo ancora una volta alcuni personaggi, alcuni angoli di Campobasso. Sì, è così. Abbiamo immaginato la presentazione quest'anno girando lungo il percorso, presentando la nostra città a cui siamo molto attaccati. Per cui le presentazioni si snoderanno lungo il percorso, seguendo l'idea di fare la gara, di correre la gara. Per cui ci saranno delle interviste, delle premiazioni alla partenza, in prossimità del monumento ai caduti. Ci si sposterà verso la stazione, nel centro storico, il campo di atletica leggera, la foce. Insomma, tutto il percorso della Sue Giù. E mentre facciamo questo percorso, noi abbiamo immaginato queste premiazioni della Virtus, che normalmente fa, che è quello dello sportivo, dell'atleta, della famiglia, dell'operatore sportivo, dei premi speciali. C'è un premio speciale dell'oreficeria da Stefano Guaranda, che annualmente ci mette a disposizione. E quindi abbiamo immaginato degli atleti, dei nostri tecnici. Abbiamo immaginato così di vivere la Sue Giù e la Virtus assieme, in una passeggiata, lungo un percorso, cercando di dare la possibilità a tutti di sentirsi partecipi di questo momento. 61 anni di storia del gruppo sportivo Virtus, ma una società al passo con i tempi, possiamo dirlo, vista l'organizzazione di questa Sue Giù alternativa, grazie alla vostra esperienza dei veterani, ma grazie anche a questo spirito dei giovani che voi seguite e assecondate. È vero, è colto nel segno e non è facile capire queste sfaccettature. Il nostro consiglio direttivo della società ha ben 25 elementi, sono 25 dirigenti, in una forbice che va dai 17 anni ai 70 e rotti anni. Quindi immagino un pochettino qual è il confronto e spesso lo scontro che c'è in un consiglio direttivo. Questi nostri ragazzi ci danno la forza e la possibilità di poter stare al passo nel tempo. Noi come individuiamo qualche ragazzo interessante che possa offrire il suo supporto alla società, immediatamente lo inseriamo dentro. E in effetti difficilmente ci siamo sbagliati. Abbiamo spesso avuto la possibilità di vivere il quotidiano, tutti i problemi dei ragazzi e questo lo possiamo fare solamente se viviamo con loro, se stiamo con loro. Loro saranno il nostro futuro. Speriamo in questo modo di garantire a noi stessi la sopravvivenza, alla società, alla regione molise, alla stessa Sue Giù. Perché è chiaro che non saremo eterni, noi ormai siamo piuttosto avanti negli anni e ci rendiamo conto che prima o poi ci toccherà stare al palo. Sono i ragazzi che dovranno prendere in mano le redini di tutto questo. Se riusciamo a trasmettere loro quello che sentiamo, le nostre emozioni, la nostra voglia di fare, probabilmente avremo un gruppo sportivo più forte, a campo basso, più forte dei giovani, più forti, un futuro migliore.